Da due anni e sette mesi, cioè dal 30 giugno del 2021, una TAC Slice di ultima generazione è ferma dentro i locali del Covid Center di Civitanova Marche, chiusi appunto in quella data senza una plausibile motivazione. Il consigliere Dem Carancini è una furia durante la replica all'interrogazione in Consiglio regionale sul trasferimento della TAC dall'ormai ex Covid Hospital di Civitanova all'ospedale di Recanati. L'assessore non risponde. Due anni e sette mesi che oggi sono diventati 33 mesi e ieri, il giorno precedente questa interrogazione, fate una conferenza stampa per dire ai cittadini che quella TAC Slice che era destinata a Civitanova Marche l'ha portata a Recanati, pura marchetta elettorale, considerato che a Recanati, a vostro dire, hanno locali adeguati. Il consigliere regionale ed ex sindaco di Macerata chiede in prima persona al presidente Acquaroli e all'assessore alla sanità Saltamartini perché questa operazione non sia stata fatta prima e sia stato lasciato quel macchinario lì inutilizzato in una cattedrale deserta. Ci sono le condizioni perché la Corte dei Conti chieda spiegazioni sul perché delle persone che hanno pagato quel macchinario e non l'ha pagato lei, assessore, hanno spregato risorse e fatto perdere opportunità che ha diritto di ricevere prestazioni sanitarie. È il classico oramai conosciuto gioco delle tre carte, carta di qua, carta di là. Nel nostro caso invece le vittime del gioco delle tre TAC sono le persone che si debbono curare o temolo la malattia, TAC di qua e TAC di là. Poi punta il dito sul consigliere di Fratelli d'Italia Borroni che si è detto più che soddisfatto che il macchinario vada a Recanati, ma l'attacco finale è ancora per Acquaroli e Saltamartini. Presidente Acquaroli che vedo tra i banchi, Vicepresidente, una risata vi seppellirà.